Benvenuti nel canale di Alimazzo Servato, io sono Bazaar e oggi siamo tornati nel secondo episodio di The Forest Terzo episodio di The Forest, è appena uscito il secondo sul canale di Nocox, andatelo subito a vedere Vabbè, iniziamo subito Sono successe abbastanza cose Strane, molto strane Allora Mentre non stavamo recando Non posso tagliare l'albero? Come vedete io sono all'aereo, se ci faccio all'aereo bene, Nicola è morto Sì Perché questa via era davanti all'aniboli e ci stavo arrivando Io sono andato lì per salvagli il culo Ho perso la vita Ho preso la medicina e poi sono rimorto perché era un'acqua e tutti gli animali intorno Quindi ho perso tutto E per pararmi non posso più rompere alberi Perché per pararmi sono un cazzo di bastoni che non è il culo a questa Ma forse è meglio non accattarla Oh mio Dio Lo sai è vero, anche io sto morendo Sì Guarda quanta vita ho io Io ora stavo bene Ora ti vengo a picchiare col bastone Ti vengo a picchiare col bastone Allora laga qua ci sono cannibali Ora ti vengo a uccidere No Ora ti vengo a uccidere, ho il bastone Il bastone fa male, fa più male della cittadina No Nicola, Nicola no Nicola ma perché devi fa sta Perché? Tanto non sei morto Guarda se muoio non ti giochi Te lo merito, mi hai fatto ammazzare tu Sai che sei voluta andare? Che è che è perché se non fuori di te No io ero già in vita Si doveva andare all'aereo E te Io ti ho fatto vedere che c'era la Chi è la cittina? Lascia di stare Allora si doveva andare all'aereo Sì Ci siamo persi per colpa tua Per colpa mia? Sì Sì E abbiamo trovato l'accampamento Che te già avevi quattro poti di vita? Abbiamo trovato l'accampamento Abbiamo trovato l'accampamento dove c'erano le palline No io ci avevo già posto la vita Ti sei data all'accampamento E siamo morti Non ce l'avevi più vita te Sì ce l'avevo Non ce l'avevi un cazzo di vita Non ce l'avevi un cazzo di vita Non resistevi Torna all'aereo per favore No io non mi fermo a casa Ti vedo Ti vedo in seguito Mi devi salvare tu No Ti vi che muore te Va bene Muoio Poi c'è tutto ripristinato Vai 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 Tu stai morando? Ma perché? Me lo spieghi il perché? Me l'hai detto che? Poi c'è tutto ripristinato Ma io stavo scherzando Salve Eh Sono sentendo come salvi Quale? Se mi diceva Andate a pesa Sei un coglione Mi spieghi Questo video deve essere una serie Per bene Scendiamo e ammazziamo Oddio Oddio Mi sto capivendo Mi sto capivendo Nicola 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 Si è più joel Come cazzo Che era sta signorina No Posso Vabbè, tanto ci ho risponato via. Eh, sì, ma non è niente. Hai visto? No, no, no. Iniziamo la serie da capo! Anche no! Torniamo a casa. Non ti posso tagliare l'albero. Torniamo a casa. E come ti fai a tagliare l'albero? Se te non ammazzavi? Me l'hai chiesto te! Ma io stavo scherzando, ma sei così? Ma allora, dillo! Hai detto tanto, voi rispondo qui! Sei riversa. Non è versa. Vi comincieremo da capo, come te veri. Coglioni. Allora, ragazzi... No, no, la serie non è finita, raga. Lo dico io che sono noto a studerlo qua. Allora, ragazzi, scusate se questo video ha durato poco, ma può finire qua. No, no, non finirò. No, il video finisce qua. La serie rinizierà tutta da capo. No, no, rinizierà perché io lo so il modo per riuscirci. Va bene, allora continuiamo. Allora, l'unico modo per riuscire è andare nelle grotte. Dove l'hai preso te sto stick? È abbastanza meno male. E dove l'hai preso? Per te. Dove l'hai preso? Spaccando una pianta. E come la spaccata? A mano. Devi andare a giro se spaccare la mano. Ah no, ah sì, è vero, scusa, non lo so lo trovo per stare a te. Bisogna andare in una grotta e trovare l'accetto. Quando uno ha l'accetto poi è probabilmente fatta. Un cannibale ha ucciso la sua... Oddio! Un cannibale ha ucciso la sua moglie. Bene. Ma chi l'è? Un cannibale è un cannibale. Un cannibale di merda? Allora. Sto picchiando fortissimo il cannibale. Ok, l'ho ucciso la sua moglie. Come si fa a uccidere un cannibale con uno stick? Scusa, mi spieghi cosa serve a questo zaino? Ok, ho ucciso il cannibale, però non ho più. Allora io ripreso sto zaino. Non mi spiegato. Ah! Che cosa? C'era tutta la roba dentro! Io quando sono morto... Io ho l'accetta, guarda. E quando sono morto... No, non dimmelo, quindi io... Ah, io ho l'accetta! Perché ho trovato lo zaino? L'hai trovato per terra. No, è ravi, dove sono morto io. Allora, c'è il discorso... Oh, no, 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 no. No, 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 no. Probabilmente il problema è di... Merda! Mi sono che tolano si di zero! Non mi sono roia! Che serie sta... Questa serie sta andando... come si può riuscire? merda, merda devi riusci dirti dal mio uccetto no lo fai per me? no non sai di cosa stai facendo senti passiamo la notte qui e poi si esce e si va a casa anzi andiamo a casa andiamo a casa eh io lo sai dove sto andando nooo lo sai che non vedo più la? ah eccolo guarda laggiù cosa c'è laggiù c'è terra se ci si metteva tutto il tempo non fa dov'è terra? eh come si vedeva la terra se non si poteva andare laggiù eh si faceva la non ci so a niveli eh infatti eh però ci sono le squali servirebbe una zattera si fa la zattera allora raga obiettivo di occhi è fare una zattera allora facciamo così e che idea ehi prima noi si è salvato ma quando ci serviva la roba se non si salva allora raga mi è venuta un'idea mi è venuta un'altra 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 ma che sempre riaviamo tutto allora prima si era salvato mentre non si registrava e di te così così e se adesso noi si esce e si torna al 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 minuto al al allo slot di prima no allora tu clicca lì continua a cliccare lì e continua e continua eccoci ma dai lì allora io che salvavaggio io avrei un'idea allora io avrei un'idea se ogni video ci si passa un obiettivo e poi ci sono un'idea e poi ci sono un'idea tipo l'obiettivo di oggi e questo è un'idea ancora va bene? si ahahahah 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 allora cop cop host game continua vai slot 1 vai ahahahah ahahahah vai vai fermo entro dove va vai vai si vai vai si vai che idea è una mervenuta che idea è una mervenuta che idea è una mervenuta di rifarti dallo slot di prima si sono un genio chi è che ha salvato la serie? chi è che io? chi è che io? chi è che sono un fritto? chi è la nostra? non si è la nostra? c'è la nostra? ma chi è che è un fritto? eh noi ti ristiniamo tutto eh che te lo ha detto se mi ristinò? eh che te lo ha detto di? chi te lo ha detto di ristinirà? chi te lo ha detto di ristinirà? chi te lo ha detto di ristinirà? vabbè è stato detto si si se ci fanno anche altre fonti pubblicità ragazzi ci hanno impagato che le fonti cioè eh dateci anche voi 10 euro per continuare la serie fonti fonti eh eh fonti fonti eh eh ci hanno pagato per ah ma è stato eh eh lo so la bella allora ragazzi ci hanno pagato per eh per scontrollare queste fonti ci hanno pagato? 9.000 euro si 3 euro al minuto no 9.000 euro allora 3 euro al minuto 9.000 euro allora 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 1 2 3 4 5 6 7 7 8 mi ha lasciato il panno del che cosa ho detto? del tuo can non so se si fa alzate no ora ci mori te bisogna andare lì per tornare le valigie raga incursione alle valigie non manda no se stiamo a dormire si fa subire ma è il l'accentino finisce raga scriveteci nei commenti se l'accentino finisce o meno cos'è? che lettera è questa? è una M cos'è? no niente raga facciamo il prossimo episodio ora sto fin tu all'episodio in cui si va allora ragazzi questo video può finire qua non è successo niente in questo video non so come lo chiamerò perchè ha fatto veramente schifo non c'è fatto niente sto morello il prossimo video uscirà sul mio canale e il quarto video sul tuo canale bello ciao 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 ciao